Tutti in strada per bonificare dai rifiuti la Versana, l'iniziativa di Lega Ambiente Puliamo il Mondo. Quest'anno ha coinvolto anche gli agricoltori della Piana del Sele nel Salernitano. Trattori, mezzi agricoli e operai forestali insieme per risanare l'area, con l'attenzione focalizzata alla quarta gamma. In azione dunque nella zona di coltivazione e delle serre, fiore all'occhiello dell'agricoltura campana e nazionale. È un tributo di trattori, di cescugliatori, di agricoltori, di operai forestali della provincia di Salerno, oggi concentrati sulla Versana, che vogliamo trasformare nella prima strada in Europa adottata dagli agricoltori. Si produce la quarta gamma, un prodotto che si esporta in vari paesi europei con un fatturato di oltre un miliardo di euro. Noi riteniamo che sia giunto il tempo che anche gli agricoltori assumano un impegno verso il territorio, oltre le loro aziende. Ma abbiamo trovato una grande disponibilità. Riteniamo che presto questa idea, questo progetto, questo sogno si trasformi in realtà.